Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici. È stata una settimana con un certo numero di news, abbiamo avuto la crisi di governo in Italia, vi sono i nuovi stimoli che il Presidente eletto Biden ha annunciato e che sono superiori a quelli che ci si attendeva, la Cina ha comunicato tramite la propria banca centrale che darà tutto il sostegno possibile per la crescita del proprio paese, è nata Stellantis, la seduta di Venardì è stata l'ultima seduta in cui Fiat e Peugeot sono stati sui listini con il proprio nome e col proprio simbolo. Infine ricordiamo che è stata anche la settimana in cui è stato deciso il secondo impeachment contro il Presidente Trump. A fronte di tutte queste notizie però i mercati si sono mossi per il Covid, la pandemia prosegue, non pare volersi arrestare, continuano a crescere i contagi, continuano a crescere purtroppo anche i decessi e forse ancora peggio la notizia è che vengono scoperte continuamente nuove varianti e nuove mutazioni del virus stesso. Le vaccinazioni al momento procedono al rilento, peraltro è giunta la notizia che Pfizer consegnerà un 30% in meno dei vaccini concordati in Europa la prossima settimana in quanto è in ritardo di produzione e deve fare manutenzione in uno stabilimento, tanto è vero che l'Ungheria a questo punto ha deciso di rivolgersi alla Cina per avere il vaccino. In tutta Europa si è praticamente in un lockdown abbastanza duro o comunque vi sono una serie di restrizioni molto rigide e alla luce di tutto ciò gli investitori sono tornati con i piedi per terra. Notizie dell'ultima ora sono che vi sia stata scoperta in Brasile una variante di Covid diversa, una variante che colpisce anche chi è già stato malato, pertanto il Brasile ha chiuso le frontiere e molte altre nazioni stanno chiudendo le frontiere nei confronti del Brasile, proprio per cercare di evitare che questa nuova variante si possa immediatamente ripropagare in tutto il mondo. Quindi avevamo detto settimana scorsa che non ci facciamo prendere dall'euforia, questa settimana come vedete le performance sono state tutte negative, non ci facciamo prendere ovviamente dalla depressione, rimane però molto alta l'attenzione su quello che accade nei mercati perché non dobbiamo farci mai trovare impreparati. Il saldo di queste due prime settimane annuali come lo vedete è prevalentemente positivo per un circa mezzo punto percentuale, solo il Nasdaq è in rosso di poco più di mezzo punto percentuale. Andiamo allora a vedere i nostri grafici, partiamo come sempre dal grafico di Milano. Quello che notiamo di Piazza Affari è che tutto sommato, nonostante la crisi di governo, in realtà la candela lasciata sul grafico non è stata delle peggiori, anzi se la confrontiamo e lo vedremo tra poco con quella del DAX, tutto sommato non ci possiamo lamentare. I volumi a Milano sono stati inferiori alla scorsa settimana, sono stati come vedete anche sotto la media, non vi è stato quindi il temuto sell off. Al momento per Milano non sono previsti rischi alti, i rischi alti sarebbero ovviamente derivati dal tornare alle urne, portare gli italiani a votare, con il rischio che vi possa essere un risultato diverso dall'attuale governo. I mercati quindi stanno valutando che in Italia si troverà comunque una soluzione per poter proseguire con questa compagine di governo, pertanto non si è ancora innescato il risk off. Come vedete la candela è stata all'interno della candela precedente, tutta una candela inside, l'apertura è stata un leggero calo rispetto alla chiusura precedente, si è andati al test preciso della resistenza sui 22.900 punti circa, si è scesi al test del supporto in area 22.2002 e dopodiché si è tornati in area 22.500, si è chiuso leggermente al di sotto, quindi tecnicamente abbiamo chiuso sotto il supporto, ma la sensazione è che stante la situazione attuale possa essere stata solo anche una sorta di presa di beneficio dopo tre settimane di rialzi e quindi tutto sommato nulla di compromesso per quello che riguarda Piazza Affari. Sarà ovviamente importante vedere settimana prossima la tenuta dei 22.200 punti, vedere quello che sarà l'esito della compagine governativa attuale, quindi in caso di rottura del supporto si andrà a vedere il livello dei 21.800 e dopodiché 21.500, nel caso in cui invece notizie politiche dovessero essere positive con la tenuta del governo e vi dovessero essere notizie positive sul versante pandemia, quindi un nuovo vaccino, una cura, un miglioramento dei dati medici, ecco che a quel punto si tornerà a guardare in primis il livello dei 22.500 punti e poi si tornerà a guardare il livello dei 23.000 punti. Andiamo a vedere allora il DAX che avevamo detto aver disegnato una candela simile, eccola qui, sul DAX notiamo che i volumi sono stati leggermente in calo ma comunque sopra la media, quindi sul DAX sono stati movimenti maggiori rispetto in Italia e soprattutto che la candela ha chiuso decisamente al di sotto della apertura della settimana precedente, pertanto vi sia stato un maggior flusso di vendite, tanto è vero che il DAX ha performato leggermente peggio di Milano, quindi considerando la crisi di governo in Italia non è stata quella la problematica dell'istino milanese, piuttosto la Germania che ha anche l'Olanda, un paese confinante che ha avuto una crisi di governo tra parentesi a poche settimane dalle previste elezioni con il governo che si è dimesso in toto per uno scandalo, ecco che la Germania deve fare attenzione con questi dati. La Germania è anche in ritardo sulle vaccinazioni rispetto alla tabella di marcia prevista e rispetto ad altri paesi europei e gira ancora questo rumor sul fatto che abbia acquisito direttamente all'extra Unione europea un quantitativo di vaccini direttamente dalla BioNTech, fermo restando che se poi non vengono usati non si capisce eventualmente questa mossa a cosa sia servita. Detto ciò ricordiamo che comunque come vedete il DAX è appena sotto i suoi massimi storici, che il primo supporto è dato dalla rialzista di breve che in prossima settimana passerà in area 13.500, quindi al momento il supporto non è stato neanche testato. Vedremo anche qui se effetti della pandemia porteranno gli investitori a accedere o se invece sia stata solo anche qui una presa di beneficio del recente rally. È chiaro, è evidente come vi sia una analogia con questa situazione che ricordiamo era febbraio del 2020, con questa situazione stiamo guardando sinceramente una configurazione molto molto simile. Vedremo, l'anno scorso chiaramente si stava temendo il peggio, riteniamo poco probabile un movimento così violento nelle prossime settimane settimane, ma dovesse venire fuori che ci fosse una nuova variante del virus che possa essere resistente ai vaccini finora in circolazione, chiaramente ci si potrebbe anche impanicare. Detto ciò, al momento la situazione sembra abbastanza tranquilla. Andiamo a vedere quello che è il mondo Wall Street, ricordiamo che Wall Street sarà chiusa lunedì per la festività di Martin Luther King, mercoledì ci sarà l'insediamento del presidente eletto Biden, però mercoledì, lo stesso giorno, qualche ora dopo l'insediamento del nuovo presidente, sarà anche l'inizio della procedura per il secondo impeachment contro Trump. L'augurio di tutti è quello di non assistere a nuovi disordini come quelli a cui abbiamo assistito lo scorso 6 gennaio e che le cose procedano con una discreta calma e tranquillità. A Wall Street sono iniziate le trimestrali, hanno iniziato le banche, i dati di JP Morgan sono stati sopra le attese, pertanto vi sono positività attese dal fronte delle trimestrali. Questo è il grafico del Dow Jones, Dow Jones che è stato il miglior listino della settimana, è stato l'unico, se vogliamo, a registrare un massimo superiore al massimo della candela precedente, quindi ha registrato un nuovo massimo storico, unico dei 5 listini che seguiamo, ed è anche il listino che attualmente ha performato meglio nell'anno. Comunque le candele sul Dow Jones, su Wall Street sono state sostanzialmente abbastanza simili, candele di range più compatto rispetto a quello della settimana scorsa e sostanzialmente hanno chiuso tutte nella parte alta della candela della settimana scorsa. Per il Dow Jones vale quanto già scritto settimana scorsa, il primo supporto rimane in area 30.000 punti, la resistenza su questa dinamica passerà intorno ai 31.600 punti, vedremo se magari a seguito di qualche risultato trimestrale o di qualche miglioramento da una situazione pandemia, Dow Jones riuscirà a raggiungerlo. Passiamo invece al Nasdaq, che come detto è stato l'unico listino passato in rosso per quest'anno, anche qui però come vedete abbiamo una candela di range abbastanza ridotto, è vero che è stata tutta sotto l'apertura del real body della settimana scorsa, ma sostanzialmente stiamo parlando di un listino che sta sui massimi storici e che praticamente ha avuto delle piccole prese di beneficio. Notiamo anche qui i volumi che sono stati in calo rispetto alla settimana precedente, sono più o meno in linea, quindi a questo momento nulla di così drammatico. Vedremo se nella prossima ottava ci saranno ulteriori cali, anche in funzione appunto dei trimestrali, ricordiamoci che il primo supporto dinamico passa intorno ai 12.000 punti e ci sta un primo livello che si può andare a guardare intorno ai 12.500, la prima resistenza a questo punto è il massimo storico dei 13.113 punti, superato il quale si potrà cominciare a ripuntare verso i 13.500. Chiudiamo infine la nostra panoramica con l'SP500, anche qui eravamo arrivati praticamente settimana scorsa a dire che c'era una candela che aveva fatto un cost to cost tra le due rialziste, questa settimana ha testato la resistenza dinamica, non si è assolutamente vicinato al supporto dinamico, è una candela che sta lì lassù in alto, sta vicinissima ai massimi storici per cui vale lo stesso ragionamento fatto per gli altri due listini. Quindi aspettiamo un attimino prima di fasciarci la testa e andiamo a vedere prossima settimana come saranno i movimenti. Vi ricordiamo a tutti il nostro servizio premium, a seguito della pandemia in molti si stanno avvicinando al trading, ecco il nostro consiglio è che per tutti coloro che si avvicinano al trading ma hanno magari qualche dubbio e qualche timore, la soluzione potrebbe essere il nostro canale premium, il nostro canale premium oltre ad essere, a dare dei segnali con risultati positivi ormai da 5 anni, è prevista anche una chat premium dove si ha la possibilità di essere in contatto con noi e con gli altri trader che ci seguono ormai da molto tempo. Per qualsiasi informazione potete mandare una mail a info-mactrader.it o collegarvi direttamente al sito mactrader.it. Vi auguriamo una buona domenica e alla prossima settimana.